Atti degli Apostoli al capitolo undici dal verso diciannove dove leggiamo ora coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia a Cipro ad Antiochia annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei ora alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene arrivati ad Antiochia iniziarono a parlare ai greci annunziando il Signore Gesù e la mano del Signore era con loro e un gran numero credette e si convertì al Signore e la mano del Signore era con loro vorrei che questa sera tu ed io tornassimo a casa con questa certezza la mano del Signore è con noi nel racconto della storia della chiesa di Antiochia della nascita di una nuova opera la scrittura e il libro degli Atti ci dice che la persecuzione l'uccisione di Stefano e la persecuzione nei confronti della chiesa aveva costretto molti a fuggire ci sono situazioni della vita che a noi appaiono avverse appaiono complicate così come poteva essere il martirio di Stefano così come poteva essere la persecuzione così come qualsiasi disgrazia che colpisce la nostra vita qualsiasi tempesta che si leva contro di noi noi immediatamente per ragioni umane caratteriale ne veniamo avviliti ci preoccupiamo ci facciamo mille pensieri ci domandiamo Signore perché mi hai abbandonato sono fuori dalla tua grazia cosa ho fatto contro di te invece dobbiamo entrare in una dimensione spirituale che anche quello che ci sembra avverso fa parte del piano di Dio perché a ragione della persecuzione alcuni di quelli che avevano ricevuto il Vangelo a Gerusalemme si spostano e raggiungono paesi quali abbiamo detto la Fenice Cipro Antiochia di Pisidia sono costretti a spostarsi ma quando si spostano la prima cosa che fanno è parlare di Dio se il buon profumo di Cristo alimenta la nostra vita in qualunque situazione ci troveremo siano ospedali siano luoghi di detenzione sia il vicinato sia il posto di lavoro la nostra vita non potrà fare a meno di testimoniare di Cristo e costoro che erano perseguitati che quindi avevano mille ragioni per essere preoccupati timorosi e abbattuti si ritrovano in un paese lontano dal proprio ma testimoniano l'Evangelo e la scrittura ci dice il Signore era con loro perché la scrittura dice il Signore era con loro perché la loro predicazione produce conversioni alla loro testimonianza altri credono all'Evangelo alla loro testimonianza altri confessano Gesù Cristo quale loro Signore e Salvatore noi non siamo chiamati a risolvere i problemi sociali e politici della nostra nazione o del mondo ma noi come cristiani come uomini e donne figli di Dio siamo chiamati ad annunciare la salvezza che in Cristo Gesù perché questo mondo sarà distrutto perché questa vita quanto lunga possa essere per ogni persona avrà una fine ciò che non avrà mai fine è l'eternità dopo la morte molti si convertono all'Evangelo e nasce la chiesa di Antiochia a Gerusalemme quelli che erano rimasti vengono a sapere che ad Antiochia altri si stanno convertendo e non sono gelosi non sono invidiosi anzi cosa fanno gli apostoli di Gerusalemme chiamano Barnaba e gli dicono Barnaba va a vedere quello che sta succedendo ad Antiochia così come noi siamo andati a Baffala a controllare quello che stava succedendo così come di tanto in tanto qualche altro servitore va in Angola in qualche altro posto del mondo nelle chiese a noi vicini e quando Barnaba arriva ad Antiochia e vede altri credenti convertiti cosa fa? Leggetelo nel testo si rallegra gioisce di vedere uomini convertiti a Cristo e noi a Baffala abbiamo avuto la gioia di vedere per la prima volta lì su quello che è l'alto solaio perché la chiesa si trova al piano secondo i vigili del fuoco ci hanno autorizzato per 70 persone noi abbiamo visto riunioni con più di 70 persone questo significa che se durante una riunione vengono i vigili del fuoco ci chiudono la chiesa perché siamo contro la legge e in America puoi fare tutto ma mai andare contro la legge ho detto incoraggiando insieme al pastore Stefano il pastore Gello che dico voi non dovete predicare solo agli africani voi così come quelli di Antiochia dovete predicare agli americani dovete predicare agli italiani dovete predicare ai canadesi dovete predicare a chiunque il signore vi mette davanti dalle cassiere dei supermercati agli autisti dei pullman dovete fare il lavoro di semina dell'Evangelo perché se il signore è con voi ci saranno conversioni e se oggi sarete in 70 noi preghiamo che presto diventato 100 120 perché questa è la visione del pastor Gianluca ma noi gli abbiamo detto troppo pochi noi andiamo da una cattiva scuola spiritualmente noi andiamo dalla scuola dei pazzi gli abbiamo detto pastore Gianluca noi 100 non vanno bene Eliseo disse ad Elia il doppio e noi ti diciamo nel nome del signore il doppio devi credere al doppio 200 240 dove li mettiamo alle spalle del palazzo nell'opera che il pastore Remo ha acquistato ci sono 250 metri quadrati di giardino il pastore Stefano ha detto al pastore Gianluca nel momento in cui vengono i vigili del fuoco e qui non potete più stare noi costruiamo la chiesa là fuori voi non dite amèn? a me sta bene spero che molti di voi cominciano a pensare di fare una busta per costruire quella chiesa non mi serve l'amen abbiamo bisogno di azioni che seguono la visione e costruire una chiesa su 250 metri quadrati vorrà dire non 240 ma vorrà dire il doppio del doppio che noi abbiamo chiesto al signore e voi direte ma perché dobbiamo fare la chiesa di 500 membri a Baffone non la facciamo qua e chi ha detto che non la vogliamo fare anche qua? è previsto presto un appuntamento con il sindaco mi è arrivata notizia in America vero Giuseppe? ci stiamo adoperando per andare a chiedere alle istituzioni una struttura un locale, uno stabile perché noi siamo pazzi fratelli la fede è pazia se voi volete vedere i miracoli del signore dovete osare dovete essere pazzi se ragionate troppo farete come Pietro sulle acque il signore ci fa camminare sulle acque e la nostra vita ogni giorno è un miracolo sulle acque sulle acque delle difficoltà sulle acque dei problemi sulle acque della mancanza di risorse economiche sulle acque della mancanza di lavoro sulle acque di ogni genere e noi stiamo camminando sulle acque non ce ne accorgiamo e non diciamo grazie signore ma nel momento in cui il signore ci dice cammina abbassiamo lo sguardo e nel momento in cui abbassiamo lo sguardo si scende sotto acqua e gridiamo signore ricordatevi del testo biblico e andatelo a rileggere Pietro ha camminato sulle acque mentre stava camminando sulle acque avrà sentito l'acqua sui piedi e il signore gli ha teso il braccio è difficile immaginare quello che è successo però se ci riesco vi porto un video e vi faccio vedere quello che Pietro ha provato perché ho visto io un qualcosa che mi ha fatto vivere quella scena mi hanno portato in mezzo alle acque ho sentito l'acqua addosso ho sentito il vento addosso ho visto Pietro cadere nelle acque e ho visto il signore come l'ho attirato sopra e vi farò vedere anche questo perché crediamo così come diceva il pastore Michele questa mattina che c'è un tempo nuovo davanti a noi vogliamo vedere i miracoli di Dio Dio è lo stesso siamo noi che dobbiamo passare dai nostri pensieri ai suoi pensieri il testo che vi ho letto dice il signore era con loro fratello, sorello, amico se non te ne fossi ancora accorto ma per il fatto che stasera tu sei qui io ti dico il signore è con te altrimenti non saresti in questo luogo il signore non ti ha mai lasciato né abbandonato e mai lo farà perché egli è lo stesso immutabile nel tempo tieni stretta la sua mano perché egli è colui che va davanti a te egli è colui che sta dietro di te egli è colui che ti circonda con la sua presenza e con la sua protezione è arrivato il tempo di agire per fede e chi ha fede dona senza aspettare nulla in cambio muove il suo braccio perché crede e sa di servire Dio al resto ci pensa il signore io vi ho detto della chiesa abbiamo da sistemare la struttura perché il sogno del pastore Remo l'avevo detto già due anni fa poi dopo due anni me lo sono dimenticato adesso mi sono impegnato a ricordarmelo e a ricordarvelo ogni settimana era di utilizzare quella struttura per preparare i giovani al ministero portare gruppi di giovani lì a fare esperienza con altre chiese a conoscere altre realtà ad entrare nell'ottica che oggi nel 2100 bisogna imparare un'altra lingua ah non vi ho detto che lì il culto è in tre ore in francese e inglese io ho predicato in italiano in francese e inglese per la prima volta nella mia vita in contemporaneo ho predicato in tre lingue sono ancora poche perché c'erano lì persone che parlavano solo lo spagnolo questo per darvi la dimensione di ciò che il signore può fare al di là di quello che noi pensiamo o immaginiamo cosa puoi fare quello che sai fare cosa Dio ti chiede quello che puoi dare perché Dio non ci chiede quello che non abbiamo Dio non ci chiede di fare quello che non sappiamo fare io non mi sono inventato a fare il muratore so fare il muratore perciò ho potuto fare la scala se mi chiedevano di pitturare era un po' più complicato però c'è sarà bisogno di pitturare qualcuno di voi potrà già cominciare a dire quando sarà sono qui c'è bisogno di falegnam c'è bisogno di chi di voi sa fare l'idraulico in America ci sono pozzi d'oro gli idraulici non si trovano ma l'idraulica americana non è quella italiana c'è tutto un sistema diverso ma un idraulico in America è come cercare il sommo sacerdote a Gerusalemme e se a volte vedete in qualche film americano della Paramount o della Universal Picture vedete chi va in cerca dell'idraulico e poi l'idraulico presenta un conto esoso è perché non se ne trovano per cui noi quando avremo bisogno di fare i lavori di idraulici ce li dobbiamo portare dall'Italia perché non ci possiamo permettere gli idraulici americani allargate i vostri orizzonti sognate all'idraulico 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 all'idraulico